Ti chiedi come fa la rosa a sostituire i geniali ed efficaci interpreti offensivi della sua venera in bichini? Ti rispondi Federico Sevieri Arriva all'improvviso, fa due gol di rara potenza e bellezza In mezzo ad una prestazione dove dalla prima palla toccata sembrava poter nascere ottimo calcio Federico Sevieri, voto 9, futurista